In occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne vorrei utilizzare le parole di Papa Francesco La donna è colei che fa bello il mondo, che lo custodisce e lo mantiene in vita. Se abbiamo a cuore l'avvenire, se sogniamo un futuro di pace, occorre dare spazio alla donna.